E' un'ordinanza. Appena me l'hanno girata non vi nascondo e mi pareva uno scherzo. Perché ho visto che il sindaco ha chiuso la città per il 22 aprile, dalle ore 8 alle ore 24, ha chiuso le scuole, ha chiuso gli uffici pubblici, ha chiuso il centro storico, ha chiuso il cimitero, ha chiuso le isole ecologiche. Non so, si aspetta che arrivano i lanzichenecchi, non lo so che teme un'invasione barbarica. Non so se sorridere o piangere di fronte a un'ordinanza di questo tipo, però visto che qua stiamo ricordando Totò, forse un sorriso con un po' di amarezza nel volto è la risposta migliore per questo sindaco.